accetteresti di essere bustato allora secondo me questa cosa del bustare lascia un po' il tempo che trova una persona bustata che però poi non sa fare mettiamola così o comunque non sa proporre cose non c'ha idee, non c'ha la volontà magari di fare qualcosa dipende poi da chi pubblico cioè da chi lo busta fra virgolette certo voi mi dite magari c'è quello streamer che potenzialmente può diventare forte ma restando nel sottobosco non spicca mai, cioè non uscirà mai da lì e quindi finirà come parlo di, spesso volete parlo di giochi di carte collezionabili e non tante dicono tante volte dico questo gioco è migliore di Magic ma perché che non avrà mai modo di uscire da quel sottobosco da quel substrato dei giochini della nicchia non potrà mai fare il botto ma non perché intrinsecamento il suo valore è inferiore agli altri giochi ok ma semplicemente perché ecco stessa cosa ci sono quei casi lì ovviamente ma nel 90% dei casi secondo me anche se uno viene boostato poi è sul lungo andare che si vede la differenza ok che si vede se continua a crescere anche poco poco alla volta però qualcosa vale se invece magari fa 300 spettatori e li fa per un anno poi chiaramente se non proponi niente non proponi niente di nuovo non fai cose interessanti comunque perché per cui merita seguirti magari non hai anche la personalità ci sta ci sta tutto il pubblico va altrove cioè non appena c'è un calo alla prima estate la prima volta che la gente dice ma sai che io invece di sta qui stasera guarda Twitch me ne vado fuori con i miei amici a prendermi un mojito e questa cosa inizia a succedere più volte a settembre quando questa persona poi tornerà alle sue abitudini più di routine si è già scordato di te non va più tornare a vederti che ci sta sono sicuro che è successo anche a me ci sono degli utenti che poi non sono tornati però se qualcuno riesci a fidelizzare tornano comunque accetteresti di essere bustato io riconosco io nel senso non mi voglio nascondere dietro il dito più piccolo dell'universo oggettivamente è se riesco a fare un po' di spettatori 97 spettatori è grazie anche a Dario cioè se Dario non mi avesse dato l'esposizione che mi ha dato io non avrei fatto quello sca perché tante volte voi magari dite è facile fare lo streamer ok accendi la telecamera ma se non cioè crearsi da zero una fanbase è difficilissimo su Twitch non c'è i correlati su Youtube non è che se io sto guardando un video di fammi vedere apro un canale Youtube a caso che sto guardando Joshua Wiseman ok è un tizio che fa roba di cucina mi suggerisce oltre ad altri video di Joshua Wiseman mi suggerisce altri canali di cucina Bruno Barbieri Chef ad esempio oppure Brian Lagerstorm ok e magari io clicco sulla thumbnail ok c'è un video di Joshua Wiseman che lui ha fatto con Uncle Roger mi vuoi guardare Uncle Roger ok o il contrario perché è come è successo a me e su Twitch questa cosa non c'è non è che ti dici mi guardo una live di Nico o di Dario che parla di manga e mi propone Twitch questo e quest'altro no non succede questa cosa quindi se sono riuscito a superare quello scoglio grosso che sono la manciata di spettatori è anche grazie a Dario è oggettivo cioè non mi voglio nascondere porta qualche bella figa e vedi come salgono i numeri quei bastardi nerd puzzoni web incancreniti sulle loro tastiere pronte a scrivere ma guarda no non c'ho voglia perché appunto è una roba effimera cioè è come quando Twitch ti dà l'home page io non ho mai chiesto l'home page a Twitch ok anche se adesso essendo partner lo potrei fare perché non serve a niente è soltanto un contentino per i creator perché vedi i numeri più grossi perché Twitch se sei in home page ti conta come spettatori anche quelli che stanno guardando l'home page ragazzi funziona così ma poi che succede non appena finisci il mese di home page o la settimana insomma quanto calzo che ti danno torni ai numeri che avevi prima perché appunto le discoverability su sto sito non esiste è inesistente Nico per cortisia basta mi stai facendo venire voglia di Mojito vabbè sì ho detto Mojito perché perché ho la menta qua sotto sotto al naso dai basta Nico sono triste no torno di Romani vuole essere triste sono basate e dico se avessi le tette eh però capito quella è è comunque una una qualità intrinseca di una persona ok cioè se la c'è chi mi dice Nico a me non me ne frega un cazzo di quello che dici ma mi piace il suono della tua voce quindi ti tengo di sottofondo mi piace avere la voce di una persona che ha un suono che mi piace se vi piace la mia voce e tenermela di sottofondo mentre studio mentre faccio altro mentre edito mentre scrivo che cazzo ne so il cazzo che fate è una mia caratteristica fisica e intrinseca la mia voce è fisicamente le mie corde vocali che vibrano la mia cassa toracica e tutto il resto le tette sono un altro paio di sono un altro paio di caratteristiche fisiche quindi se c'è chi mi segue per la voce se fossi una ragazza magari c'è chi mi segue per le tette non è che c'è niente di male se guardi un video di Kodok ti suggerisce di chiamare il numero per le emergenze e tendenze autoresionistra credo